E' assolutamente impossibile pensare a qualsiasi sentiero ragionevole di sostenibilità che non tenga conto dei mercati emergenti. Alle mie spalle è rappresentato, come dire, negli histogrammi sono rappresentati il peso dei mercati emergenti sulla capitalizzazione del mercato, che è molto bassa, sull'emissione di CO2 che è significativamente più alta, sul PIL e sulla popolazione. La parte rossa sono gli emergenti escluso la Cina, la parte violetta è la Cina. Perché è importante questa cosa? Perché se noi, come dire, teniamo conto, la Cina è probabilmente in grado di fare self-financing della transizione energetica, ma se prendiamo l'insieme dei paesi emergenti, che comunque spiegano circa il 35% delle emissioni di CO2 attualmente e più del 60% della popolazione mondiale, e quindi, insomma, a un certo punto, anche se le emissioni pro capite, come dire, si muovono, convergenono, sappiamo che c'è una convergenza nelle emissioni pro capite che è coerente con l'aumento dell'attività economica, la transizione energetica senza i paesi emergenti non si può dare. Qui qual è il problema? Il problema è il problema di finanziamento. I paesi emergenti ex-Cina non sono in grado di autofinanziare questa transizione energetica e noi stimiamo che tra quello che è investito oggi e quello che sarebbe necessario, che sono circa un trilione di dollari all'anno, per assicurare la transizione energetica nei paesi emergenti, c'è un gap enorme. Perché questo è importante? Perché se non viene addressato è impossibile che noi raggiungiamo gli obiettivi di Paris Agreement nel 2050. Sostanzialmente significa che capitali devono fluire dai paesi sviluppati ai paesi emergenti. La forma con cui questi capitali possono fluire sono diverse, possono essere capitali privati, ma se noi pensiamo anche alle funzioni di entità come il Fondo Monetario, la World Bank o queste istituzioni sovranazionali create con degli obiettivi di stabilizzazione macroeconomica alla fine della Seconda Guerra Mondiale, forse dobbiamo pensare a delle strutture simili che possono servire a finanziare la transizione energetica nei paesi emergenti.